Le cronache di Narnia. Il leone, la strega e l'armadio. Un valido aiuto per parlare del cristianesimo. Il leone, la strega e l'armadio, il primo film della serie Le cronache di Narnia, può offrire un'ottima opportunità per parlare della fede. I bambini potranno gustarselo anche se non coglieranno subito i temi cristiani contenuti nella pellicola. La storia racconta le avventure di Peter, Susan, Edmund e Lucy, quattro fratelli che durante la Seconda Guerra Mondiale scoprono il mondo di Narnia, al quale accedono attraverso un armadio magico mentre giocano a nascondino nella casa di campagna di un vecchio professore. A Narnia scopriamo un mondo incredibile, abitato da animali che parlano, folletti, fauni, centauri e giganti che Jedis, la strega bianca, ha condannato all'inverno eterno, dove, come nei regimi anticristiani come l'Arabia Saudita, è proibito festeggiare il Natale. Con l'aiuto del leone Aslan, il nobile vero sovrano, i bambini lotteranno in una spettacolare battaglia per vincere il potere che la strega bianca, usurpatrice, esercita su Narnia e per riuscire a liberarlo dalla maledizione del freddo. L'autore delle cronache di Narnia è Clive Staples Lewis, nato a Belfast, nell'Irlanda del Nord. Convertito al cristianesimo grazie all'amico Tolkien, il cattolico autore di Il Signore degli Anelli, è stato capace di comunicare il messaggio del Vangelo in modo accessibile. Ci sono molti parallelismi in questo libro. Il leone Aslan, che rappresenta Gesù, la rottura della lapide e la distruzione della legge antica. È inverno, ma mai Natale, e il Natale non arriva finché non arriva Aslan. Aslan muore per un peccatore, un bambino, che rappresenta qualsiasi persona, e prende su di sé i suoi peccati. Nella scena precedente al sacrificio di Aslan per il bambino Edmund, la strega bianca dice Perché a peccato è mio! E intende uccidere Edmund. E Aslan dice Ma io mi posso offrire al suo posto. Interessante, anche che il capogruppo dei fratelli è Peter, con riferimento a San Pietro, capo degli apostoli. Penso che la pellicola sia un valido aiuto per parlare del cristianesimo. La gente leggerà Lewis, di cui io consiglio l'ottimo libro Le lettere di Berlicche, dove un diavolo esperto consiglia a suo nipote diavolo come fregare gli uomini per farli andare all'inferno. Per approfondimenti e per vedere il trailer di Il leone e la strega all'armadio e per leggere le schede dei migliori film, visita il sito filmgarantiti.it Grazie mille!